Giovedì 8 aprile, buongiorno, bentrovati con la nostra rassegna stampa prima dei quotidiani locali e nazionali, ci occupiamo del coronavirus, ancora vittime, il virus ha portato via altre 5 persone in queste ore, 2 donne e 3 uomini tra i 58 e i 79 anni, erano tutti ricoverati al Cardarelli di Campobasso. I nuovi casi sono 24 e l'indice di contagiosità sale al 3,3%, al momento i ricoverati sono 68. Sentite tutti i dettagli nel servizio di Valentina Ciarlante. I nuovi contagi diminuiscono ma le vittime no, nelle ultime ore il Molise piange la scomparsa di 5 persone, tra queste c'è un uomo di 58 anni, di Santa Croce di Magliano, e poi due pazienti che si trovavano in terapia intensiva al Cardarelli, un 60enne di Termoli e un 75enne di Campomarino. Si sono spente invece nel reparto di malattie infettive, sempre a Campobasso, una 78enne di Cerce Maggiore e una 79enne di Casa Calenda. Il virus finora ha portato via 455 cittadini molise. Sono peggiorate le condizioni di un paziente di Ururi trasferito in terapia intensiva, mentre una persona di Termoli è stata portata al Cardarelli dal San Timoteo. Tre i nuovi ricoveri, tutti nel presidio Campobassano, e adesso complessivamente sono 68 i degenti per Covid nei vari ospedali del Molise, 14 in terapia intensiva. I nuovi casi sono 24 su 711 tamponi, con una percentuale di contagiosità che quindi è al 3,3%. A Campobasso 6 nuovi positivi, 3 a Ferrazzano. I guariti invece sono 60, quindi gli attualmente positivi 654. Aumentano i soggetti in isolamento, ora 4.033. Ed ora i giornali, iniziamo da Primo Piano Molise, che apre proprio con il coronavirus pochi casi accertati, ma altri 5 decessi. Questa è l'apertura di Primo Piano. Tra le vittime un 58enne di Santa Croce e un 60enne di San Martino, sono morti pure un 75enne, una 78enne ed una 79enne. 24 contagi su 711 tamponi, tasso al 3%. Poi 60 guariti, tre nuovi ricoveri e un dimesso, 68 pazienti negli ospedali, 14 quelli in rianimazione. Di spalla la lettera, umiliata e indignata, parrucchiera scrive a Draghi per manifestare appunto la sua indignazione. Non ha diritto ai ristori, lo scorso anno ha lavorato poco, era in dolce attesa. Il punto del direttore Luca Colella, friggere con l'acqua. A noi viene bene, qualche problema sulle vaccinazioni domiciliari va un po' meglio da quando un'equip dell'esercito raggiunge presso la propria abitazione chi non deambula. Ma la soluzione definitiva è lontana per le altre categorie. Dopo una partenza in salita, il Molise tiene salda la vetta della classifica nazionale. Questo è l'incipit dell'editoriale di Colilla. In taglio centrale, recovery, vertice, governo, regioni in programma oggi pomeriggio. Toma punta sulla quattro corsie tra le infrastrutture portate al tavolo oppure l'elettrificazione fino a Termoli. E poi la conferenza, assemblea dei sindaci, Saia eletto presidente, vaccini over 70, 9.500 iscritti in poche ore. Ieri si è aperta la casella per le prenotazioni. E poi a Busso, l'autista del Busso positivo al testa, il primo cittadino avvisa gli studenti. Dentro la notizia a Venafro c'è un folle che esplode pallini di piombo contro i gatti. Indagano i carabinieri forestali. A Montenero, autosalone divorato dalle fiamme, gli inquirenti non escludono il dolo. Poi sulla quattordici, schianto tra Vasto e Termoli, furgone distrutto, miracolati gli occupanti. In taglio alto ci sono i richiami di sport con il Campobasso. 2.500 euro da pagare all'ex San Severino, ma il club ricorre al Tribunale federale. E poi Vasto Girardi, dilucente, tuona contro la squadra, qualcuno si è imborghesito. Basket, il nuovo inno della Magnolia, composto da Raffaele Spidalieri. I quotidiani nazionali. Iniziamo dal messaggero di Roma, piano per le isole no Covid. La lettera del commissario ai sindaci per vaccinare gli abitanti e far ripartire il turismo da Capri a Ponza, corsa contro il tempo. La Grecia concluderà la profilassi a fine aprile. E poi AstraZeneca consigliato agli over 60. Notizia che troveremo su tutti i quotidiani. Il governo ora più dosi da Pfizer, lema trombosi, effetto molto raro. In taglio centrale c'è l'annuncio alla TV russa, gruppo sanguigno diverso, l'ira della famiglia. Olesia non è Denise, la ferita resta aperta. E poi c'è la crisi ITA all'Italia, Draghi in campo per smuovere l'Unione Europea. Passiamo al Corriere della Sera. L'apertura è su AstraZeneca, oltre i 60 anni. La circolare è senza seconde dosi, senza limiti, Draghi avanti con gli anziani, regioni all'attacco. Le vaccinazioni per l'Agenzia Europea è possibile un nesso con rari casi di trombosi, soprattutto in donne più giovani. E poi di spalla c'è Antonio Polito. Ora serve un segnale. Ogni volta che si parla di riaperture il governo risponde. Dipende dai dati, giusto? Ma quali questo l'incipit di Polito? In taglio centrale c'è l'incidente diplomatico che si è verificato in Turchia. Guardate questo scatto, l'offesa a von der Leyen lasciata senza sedia critiche a Erdogan, ma anche al capo del Consiglio europeo che per il suo silenzio, che di fatto non ha fatto nulla la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, di spalle e al centro c'è il Presidente del Consiglio europeo e accanto a lui il padrone di casa Erdogan. La Repubblica, anche Repubblica, sceglie l'apertura su AstraZeneca il verdetto meglio dai 60 ai 79 anni. È l'indicazione preferenziale data dal governo alle regioni. Dopo gli ultimi esami dell'EMA il vaccino è sicuro, gli esperti del CTS, così il piano di somministrazione sarà più veloce. Contagi in discesa, ma ieri 627 morti. Lavoro, nuove proteste, Landini no, licenziamenti fino ad ottobre. C'è il commento di Francesco Manacorda, un paese stretto tra due sfide. Gli italiani tra mille difficoltà si stanno vaccinando, ma per le loro attività, per l'economia nel suo complesso, il pericolo è che quelle vaccinazioni arrivino troppo tardi, quando ormai rimettere in piedi la produzione. Produzione, commercio, i servizi rischia di diventare un'impresa difficilissima. Poi c'è l'intervista a Zingaretti. Potremmo fare molto di più, ma mancano le dosi. Di spalla, diritti, Turchia, l'offesa di Erdogan, nega la poltrona a von der Leyen. Mentre in taglio centrale, ritrovato a Madrid, tela all'asta per 1500 euro, è il Caravaggio perduto. La tela è ceomo che un nuovo studio attribuisce proprio a Caravaggio. Andiamo su il fatto quotidiano che attacca in maniera molto forte la Moratti e dice vergognati, anziani in coda al gelo. Lombardia, la follia dei vaccini senza prenotazione. File anche in carrozzina, Bertolaso, no apposte su tre piattaforme. E poi, in taglio basso, si parla della casta laziale. Assunzioni, zinga furioso al PD. Mi state rovinando tentazione di missioni. Lo scoop del fatto quotidiano. Passiamo al sole 24 ore. Il quotidiano politico, economico e finanziario di Confindustria. Vaccini a maggio in 500 aziende. Nelle scorse ore è stato firmato il protocollo lotta al Covid. Le possibilità, iniezioni in loco, in strutture convenzionate o allina il Confindustria. Passo avanti, pronti a collaborare per il bene del Paese. Poi, Orlando, un'opportunità. Metteremo in sicurezza milioni di lavoratori. Parla anche il Ministro Franco. Un nuovo scostamento per sostenere le imprese. Disco tagli graduali. Aiutili incontro del G20. Piano del Fondo Monetario Internazionale. Da 650 miliardi per i Paesi più fragili. Nuova moratoria. Sui debiti. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. In taglio alto, Pirlo che Ioa con Di Bala. I CR7 ritrovato di Bala salvano il tecnico. La Juve terza. Il Napoli si sveglia troppo tardi. Riesce solo ad accorciare il risultato con insigne dagli 11 metri. Mentre in taglio centrale c'è l'Inter. Ballo scudetto. Decima vittoria di fila. E' quasi irraggiungibile. Lukaku Lautaro. Segnano sempre l'oro. 2-1 al Sassuolo. Conte non piace il gioco. Allora andremo dall'estetista. Sarebbe bello spodestare la Juve. Il commento di Luigi Garlando. Se ad Antonio piacciono bruttine. In effetti ieri l'Inter non ha giocato benissimo. Anche il possesso palla è stato da pannaggio del Sassuolo. Ma alla fine ha conquistato un'altra vittoria. Taglio basso. La Roma difende l'Italia e Fonseca contro l'Ajax. L'allenatore si gioca tutto e si riaffida ai gol di Dzeko. Stasera ad Amsterdam. Ore 21 l'andata dei quarti di finale. Mentre per la Champions super Mbappé che doppietta. Bayer K.O. 3-2. E il Chelsea va a vinto in casa del Porto. Bene, è davvero tutto. Prima dei saluti. Il palinzesto. Cosa troverete oggi sulla nostra rete? Alle 14 l'informazione con me. Poi Punto Verde. Alle 19.30 c'è Valentina Ciarlante. Alle 21 non perdete Mulise Sport. Curato come sempre da Franco. Presulti alle 23 l'ultima edizione del nostro notiziario. Bene, è davvero tutto. Grazie per averci scelto. Buona mattinata. Arrivederci. Grazie per averci scelto.